A quasi 25 anni dalla Giallo, il lavoro degli investigatori e dei carabinieri che stanno cercando di far luce sull'omicidio di Romana Bonacchi è ripreso a pieno regime, come se l'indagine stesse iniziando solo ora. I militari stanno ripercorrendo ogni passo, compreso il prelievo di campioni della DNA di tutti i parenti, amici e conoscenti della vittima. I risultati verranno comparati con le tracce biologiche trovate sul luogo del delitto, in primis quelle sul coltello usato dall'assassino per colpire 27 volte la 55enne di Quarrata, quelle sulla bottiglia con cui era stata colpita in testa e con i capelli trovati stretti tra le dita del cadavere. Tutti inoltre saranno chiamate a rilasciare nuove deposizioni che verranno videoregistrate e inviate agli esperti del reparto analisi criminologiche. Romana Bonacchi fu massacrata con un coltello da cucina nella sua villetta di via Ceccarelli alla Ferruccia. Era un venerdì sera, il suo corpo fu trovato la mattina seguente dai vigili del fuoco allertati poiché la donna non si era presentata all'appuntamento con la sua parrucchiera e da 24 ore non rispondeva al telefono. Tra i possibili moventi fu escluso quello della rapina, dalla casa sparirono alcuni oggetti preziosi ma i gioielli più costosi non furono toccati, gli inquirenti seguirono anche l'ipotesi del delitto passionale ma alla fine non vi fu alcuna pista certa, quella che i carabinieri sperano di seguire adesso con le nuove indagini. Grazie. 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 Grazie.